Si è svolta il 26 ottobre a Palazzo Lascaris la cerimonia di insediamento dei nuovi membri del Comitato Regionale delle Comunicazioni, il neopresidente Alessandro De Cillis e i componenti Vittorio Del Monte e Gianluca Martino Nargiso. Il CORECOM è un organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e organo di consulenza di gestione e di controllo della Regione in materia di comunicazione. Ha, tra le sue funzioni principali, il ruolo di conciliazione extragiudiziale nelle controversie tra utenti e compagnie telefoniche, attività in cui il Piemonte ha la percentuale di soluzione più alta a livello nazionale. Presidente De Cillis, oggi si insedia il nuovo CORECOM, quali sono i prossimi passi? I prossimi passi sono sicuramente lavorare per ottenere gli stessi risultati che sono stati ottenuti fino adesso. Noi ci troviamo ad affrontare un momento molto importante, ci insediamo in un CORECOM che ha lavorato molto bene, sicuramente uno dei migliori in Italia e quindi la nuova sfida è proprio questa, riuscire a ottenere ottimi risultati anche nel futuro.